benvenuti ad un nuovo appuntamento di toscana cine news in questa puntata vi parliamo di cinema italiano e ancora di cinema sudcoreano del florence corea film fest per quanto riguarda il cinema italiano vi parliamo della solita commedia inferno il film firmato da fabrizio biggio francesco mandelli e martino ferro vale a dire dalla coppia comica dei soliti idioti in questo film di che cosa si parla siamo ai giorni di oggi nel 2015 e all'inferno si presentano tutta una serie di nuovi peccatori che minosse non sa più catalogare non sa dove mettere l'hacker non sa dove mettere lo stalker e quindi grazie a un incontro fallucifero e niente poco di meno che dio si decide di mandare sulla terra di nuovo dante alighieri per creare una nuova classificazione dei peccatori quindi creare dei nuovi gironi danteschi appunto per l'inferno da qui naturalmente tutta una serie di gag comiche esilaranti anche perché dante si avvarrà della guida improvvisata di un virgilio casuale preso dalla strada devo dire che il film è una gradita sorpresa in quanto i due comici i due soliti idioti lasciano un po da parte quelle sono alcune cadute di stile e le scene troppo spinte che spesso vediamo in televisione per tirar fuori invece un film che ha una sceneggiatura che regge dall'inizio alla fine in effetti fa ridere e in qualche modo si come dire si pone nel solco della tradizione della comedia italiana in quanto non soltanto fa ridere ma fa anche riflettere infatti i nuovi peccatori chi sono sono le persone fissate con lo smartphone sono le persone che non rispettano gli altri nella coda nelle strade supermercati sono quelli che creano invece che la grande bellezza la grande bruttezza quelli che mettono le slot machine in un pronto soccorso all'ospedale insomma veramente tutti gli orrori della società moderna ma sentiamo che cosa hanno detto al nostro microfono tanti sketch personaggi televisivi finalmente un film come è nato questo progetto è nato beh una considera l'ideale conseguenza dei soliti idioti raccontavano i ticcheri nevrosi che avevano detto ora diamoci più sul pesante raccontiamo i peccati proprio no e perciò siamo andati all'inferno vi portiamo tutto all'inferno se volete venire un posticino no sempre fa un po caldino ma si sta bene sì sì poi l'inferno non in realtà è sulla terra non è sottoterra come pensava dante cioè dante ritornando oggi nel 2015 in italia scopre che l'inferno è già qua la nostra vita è costellata di gironi infernali e di peccatori che scontano diciamo le loro pene nel traffico esatto nelle loro case nel loro condominio insomma quindi dopo la grande bellezza siete riusciti veramente in modo direi ottimo a rappresentare la grande bruttezza in questo senso ci avete fatto anche un favore nel senso che veramente si vedono alcuni lati assurdi della società sì sì certe cose spesso dicono che la nostra non comincia a surreale ma spesso la realtà è già surreale di su cioè le cose più assurde vengono tant'è vero che alcune sketch tipo quello del wifi cioè non è che abbiamo fatto niente di diverso a quello che succede quando tu chiedi la password e trovi una password di 20 caratteri e non riesci a segnare la mai giusta no perciò la surrealtà esiste è reale ecco forse no sì sì ecco il marchio soliti idioti via un po appunto marchiato non siete sempre voi o vi sentite altri in questo momento andelli ma no in realtà come diciamo sempre noi non siamo non ci siamo mai chiamati i soliti idioti abbiamo fatto un programma che ha avuto grande successo due film che hanno avuto grande successo che intitolavano i soliti idioti perché rappresentavamo i soliti idioti quindi per la gente era più facile darci quell'edisivo quell'etichetta noi siamo sempre stati bigio mandelli perché prima di quel di quel programma lì abbiamo fatto tante cose insieme su mtv e quindi andiamo avanti adesso come bigio mandelli i soliti idioti esistono ne siamo molto fieri molto orgogliosi ci hanno dato grande popolarità però erano un po stanchi volevamo fare qualcosa di nuovo anche per non stancare il pubblico importante di tisi tu sei di firenze hai mantenuto un legame con firenze la toscana gireresti un film io non sono di firenze senti l'accento è un toscano ragazzi nel film che è pazzesco è il legame con firenze il cuore sempre a firenze perciò il fatto di far gireresti qui giri a firenze ma certo ma tutta la vita veniamo a girare a firenze no purgatorio magari purgatorio si potrebbe fare a firenze grazie ci potrebbe cosa direbbe dante ora qui sarebbe una terzina non aspetta solo 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 che ce l'ha mandata prima marty e aspetta che tra l'ho ricevuti tempo reale un'improvvisazione ma dante non improvvisa cioè dante parla in terzina in endecasillabi nel film non improvvisa niente la sola squadra che amarsi permetta è il giglio viola che ovunque svetta e dopo avervi introdotto questo film la solita comedia inferno che come dicevamo in ogni caso è un film gradevole quindi senz'altro da vedere torniamo ad una breve carrellata quello che è il cinema sudcoreano vi ricordiamo che fino al 30 di marzo si tiene al cinema odio in estenze in di firenze il florence corea film fest uno dei registi ospite è stato kim han min che ha firmato un film veramente campioni campione di incassi perché è stato visto da ben 17 milioni di spettatori quindi una cifra veramente esorbitante un film che ha avuto un grande successo e che racconta una pagina della storia sudcoreana in particolare di una battaglia che si è tenuta nel 1597 fra un esigua flotta sudcoreana che ha saputo far fronte a un attacco della flotta giapponese quindi è evidente che il film interessa molto i sudcoreani in quanto racconta proprio una pagina della loro storia ma può interessare anche tutti gli spettatori perché perché parla anche di valori universali di come pur avendo una situazione avversa vale la pena di combattere comunque fino all'ultimo sentiamo che cosa ha detto al nostro microfono il regista come spiega il motivo di questo successo quando ho fatto il film naturalmente è stato molto ero molto preoccupato di come sarebbe successo come sarebbe diventato perché il sunshin è un personaggio molto importante nella storia coreana e non sapevo se il pubblico avrebbe apprezzato no però ero sicuro che non sarebbe stato un fallimento il film e che avrebbe avuto un buon successo nonostante non mi sarei mai aspettato che avesse avuto un successo così grande e il sunshin l'ammiraglio è un personaggio molto importante della storia coreana quindi riesce a comunicare bene attraverso il film con il pubblico coreano quindi può essere questo è uno dei motivi per cui appunto il film ha avuto questo grande successo il punto forte di questo film è come un uomo solo sia riuscito da solo appunto a modificare cambiare la paura che c'era in una nazione in coraggio questo è diciamo uno dei punti centrali del film come una persona sola abbia trasformato la paura di una nazione che era soppressa dai giapponesi nel coraggio per riuscire poi a sconfiggere appunto questi giapponesi che erano venuti alla conquista della Corea e questo è stato il punto forte del film e anche per questo il pubblico coreano è riuscito ad apprezzarlo così tanto e ha visto il film in modo rilassato e divertente ecco questo è un messaggio universale infatti il film è stato visto anche all'estero come è andato all'estero in realtà il messaggio che ci vuole dare anche un messaggio di pace forse sì indubbiamente questo qua è il motivo per cui è stato apprezzato molto anche all'estero perché oltre ad essere un blockbuster un film d'azione un film di guerra racchiude in se stesso anche comunque un messaggio molto importante che riesce a essere percepito non solo da un pubblico coreano ma comunque da un pubblico mondiale questa puntata di Toscana Cine News si chiude qua un caro saluto a tutti i nostri telespettatori arrivederci la prossima puntata Grazie a tutti Grazie a tutti